Salve brava gente, eccoci qua ritrovati su Destro un Empire, oggi facciamo un tranquillo e semplice unboxing di questo, quello che in giapponese si chiama Vaspita, e invece quello che in occidentale si chiama Vaspinator. Vaspita! O Vaspinator, come Devasta o Devastator. D'altronde, il Thor, gli occidentali piacciono finire in Thor, come Terminator, la sua versione un po' a luci rosse, che era sper... Mi ricordo che girava ogni tanto come nomi sulle cassette dei poveri sfigati che si passavano al liceo, quelle a luci rosse, ma che cazzo sto dicendo? Lasciamo perdere, stiamo parlando di un'altra cosa, e niente, ci apriamo, direi comunque l'artwork è veramente bellissimo, come sempre di questa serie Kingdom, c'è veramente molto molto bella. Adesso li apriamo, poi vediamo anche un po' i nostri Predacons, che sono stati messi in vendita fino adesso, quindi metterli tutti insieme come vengono. Come vedete c'è sempre questo adesivazzo qua, messo qua, quel giapponese, BAM! BAM! Qua così, cioè, d'altronde non si fanno neanche una scatola nuova, cioè, ci appiccicano gli adesivi, te li vendono dopo sei mesi qua in Giappone. Cioè, veramente, il Giappone non è più veramente il paese di Transformers, ti viene da dire. Va bene, dai, adesso vediamo di aprirlo. Cioè, adesso vediamo di aprirlo. E adesso ho tirato fuori della terra a scatola, ok? Abbiamo questa scatola bella così, un cartone bello tosto, che riprende poi i motivi del Golden Disc, eccetera, che viene fuori in Beast Wars. Poi, abbiamo qua la nostra solita card, che guarda caso anche stavolta era Black Widow o Black Arachnia, come viene chiamata in... Ah qua, Black Arachnia, proprio così. È strano che non avevo messo l'adesivo, ho petato qua, attaccato, Black Widow. Black Arachnia, non Black Arachnia, non Black Arachnia, non vorrei essere punto. No, è un personaggio, è la Mine Fujiko dei Transformers, Black Arachnia, non so alcuni punti di vista. E poi abbiamo il nostro bellissimo, ovviamente, libretto di istruzione, come vedete, c'è anche l'adesivo qua, in giapponese in qualche modo appiccicato. È l'unica... sono le uniche poche parole che vedi. E poi apri questo bello libretto di istruzione, che ti sembra di avere, il libretto di istruzione dell'IKEA, dove non c'è un straccio di parole, ovviamente. Il fatto per capirsi meglio con tutti gli altri esseri umani a questo mondo, devi non usare le parole. Ecco, va bene. Benissimo. E poi abbiamo qua il nostro Vaspinator, che ha colori molto molto shock, è molto piccola come figura. E vediamo un po' il pregio e i difetti, poi dipende dal punto di vista di queste scatole della serie Kingdom, che non hanno blister, perché una volta tolto qua dai vari laccetti che vediamo qua dietro, è un po' da sbattere nel cesso come scatola, perché è difficilmente riutilizzabile. Poi sono le persone abili che riescono a rimetterlo così com'è con i laccettini, veramente non quelli in plastica, ma quelli in tessuto, eccetera. Poi venderli come usati, che sembrano nuovi, io non ci penso neanche. Però diciamo che non è inutilizzabile come scatola, ecco. Se avessi il blister potresti metterlo via più tranquillamente. Usare meno, non si fa meno problemi, lo prende, sbatti via la scatola. L'unica cosa, è peccato per queste belle illustrazioni, anche perché la scatola è bella, è il fatto che prende un sacco di spazio. Va bene, andiamo a tirarlo fuori, a giochicchiarci un po'. Ed ecco tirato fuori il nostro vaspinator dalla scatola. Innanzitutto guardiamoci la scalp, che specialmente del viso è da urlo, con proprio questi occhi da insetto, la bocca, eccetera, qua di lato, le antenne qua. È proprio uno scalp fatto veramente benissimo. E teniamo conto che questa è un, come deluxe classe, molto molto piccola come figura, e anche la testa è grossa, forse è meno, wow, dell'unghia del mio pollice. Per cui c'è, è veramente piccolina. E poi l'ha fatto molto molto bene, come sono fatti bene anche qua gli occhi della vespa, del corpo qua, che poi diventa la testa della vespa. E poi per il resto anche, diciamo, anche le ali sono fatte bene, ma non sono divisibili, cosa che a me effetti dà un pochettino fastidio. Anche la coda qua, il pungiglione, eccetera, è ben fatto. La parte qua è la parte che poi diventa arma. Anche se trovo, lo trovo un po' giocattoloso come colorazione qua. Vabbè, comunque, adesso questa è toglierla, toglierla, si vestigna. Ecco, l'ho tolta, per fortuna. Questa diventa poi l'arma. Poi per, e poi anche qua la coda diventa un po' fastidiosa, cioè si vede proprio. Questa diciamo che come scalp è un po' sacrificata la versione robot, perché dovendosi trasformare, un po' anche la stessa cosa di Scorponok, dovendosi trasformare in un insetto, è un po' ingombrante le sembianze dell'insetto nella sua modalità robot. Cioè abbiamo queste antenne qua davanti, le zampe qua che non sono nascondibili, specialmente le zampe qua della vespa, qua nelle gambe della versione robot, sono veramente fastidiose. Queste delle mani è ancora un filino meno, perché sono solamente due, mentre qua sono quattro. Per quanto riguarda le giunture, sono le solite, un po' ball joint qua sulla testa, si muove discretamente bene, ovviamente un po' precluso dalla parte qua dietro. Le braccia sono molto mobili, dovete stare sempre attenti a sapere le braccia per le gambe, a non farvi alle zampe da insetto, che danno un po' di problemi, comunque si muovono benissimo. Abbiamo anche qua sopra i bicipiti, che si muove a 360 gradi, il gomito anzi quasi a 180, e poi le soliti polsi, che si muovono anche loro, e anche le gambe senza problemi, le ginocchia fino a direi 90 gradi, e poi anche le caviglie. Purtroppo la mia vaspinetto ha problemi qua, la giuntura qua, che si stacca subito, ma devono essere problemi della mia versione, penso, non un qualcosa di universale. Adesso andiamo a vedere la fine, insieme agli altri predacons. Ed ecco qua i nostri predacons, fino adesso qua in Giappone ne sono usciti 4, qua veramente andiamo a rilento. Una cosa che mi dà un po' fastidio, perché in America ne sono già usciti un casino, qua solamente 4. Va bene, comunque sono molto soddisfatto, io devo dire la verità, non ho mai visto la serie Beast Wars, se non qualche puntata, così al volo, però avere i miei predacons non è che mi dispiaccia. Poi in questa linea, che hanno delle dimensioni abbastanza ridotte, per cui anche abbastanza facili da collezionare, anche con dei prezzi buoni. E cosa c'è da dire? C'è da dire che innanzitutto, questo Megatron e questa Black Widow, o Black Arachina, sono tra i transformer più belli che abbiamo mai visto. Questo Megatron, secondo me, S.R.U. classa di gran lunga la versione Masterpiece, come proporzioni e tutto il resto, qualità, prezzo, eccetera. Anche l'altro, la Masterpiece è bellissima, ma questo è veramente un qualcosa, secondo me, di favoloso. Black Widow, anche lei è fantastica. Il problema sono questi due, nel senso che sia Scorponok, che Vaspinator, si portano un po' al problema di doversi trasformare in un qualcosa che è molto ingombrante poi nella versione robot. Questo Scorponok si mette dietro tutte le zampe e la coda, ma non è questo il problema, è il fatto che sembra super deforme. C'ha le gambe che dovrebbero essere almeno una volta e mezzo più lunghe e un ottimo più grosse. C'è veramente ridicolo la versione robot. E anche questo Vaspita si porta davanti tutte queste gambe della Vespa, che sono un po' fastidiose, ma come proporzioni è sicuramente fatto meglio lui di Scorponok. Però abbiamo due Transformer che sono incredibilmente ben fatti, che sono questi due, e due Transformer che sono un po' medi, medio... Non dico... Questo è sicuramente mediocre. La versione Scorpion è bellissima, però la versione robot è... E' questo che stende la media, ecco. Per cui magari forse sto un po' per questo, perché questi sono talmente troppo... troppo fatti bene, ecco. E siamo alla fine della nostra unboxing e lieve recensione, recensione molto al volo, e cosa dire di questo Vaspinator? Beh, lo trovo un... un robot abbastanza piacevole da smanettare, con un po' ovviamente di tutti i suoi problemi che si porta dietro, nel fatto che si trasformano in qualcosa di ingombrante, per cui è ovvio che in modalità robot sia un po' limitato. Comunque la scalp è sicuramente della modalità robot fatta sicuramente meglio di Scorponok, e anche la colorazione è molto shock, però... riprende molto il personaggio della serie, lo scalp non è male, specialmente quello del Visot è troppo fantastico. Beh, voto finale 6,5. Se trovato a un prezzo decente è consigliato per chi vuole farsi tutta la sua collezione di Predacons. Ok, grazie per la visione, ci vediamo nei prossimi video, ciao ciao da Destron Empire, ciao ciao!